Arriva dalla dolce vita il capolavoro di Federico Fellini e non poteva essere altrimenti all'Hotel Excelsior, dove nacque la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nel 1932, uno dei cocktail più glamour dell'estate veneziana. Il nuovo bar manager dell'Hotel Excelsior, Lino Marchese, ingaggiato direttamente dal Dubai, dal general manager Alessio Razzazzera, ci racconta qualche segreto in anteprima. La costruzione del drink direttamente al tavolo, così come è stata già interpretata in alcuni bar molto rinomati di Londra. Nella costruzione del drink vediamo appunto la possibilità di offrire al cliente di bere secondo i propri gusti, secondo la propria emotività. Un cocktail fortemente legato al territorio. Attraverso il select abbiamo infatti costruito un carrello, un trolley, sul quale costruiremo una serie di drinks signature e costruiremo al cliente drink che possono essere il beverino di turno dall'aperitivo e quindi il select spreece, oppure possiamo andare a fare dei lavori in sour, possiamo andare a fare dei lavori un po' più robusti, come un select old fashion. Anche le stagini arrivano a settembre per la mostra del cinema, avranno una bevanda speciale, a loro ispirata, qui daranno il nome. Per cui vogliamo appunto avere l'onore con Benigni di costruire questo famoso cocktail veneziano, che le avevo già anticipato, sulla base di select e gli costruiremo il Benigni Martini. Grazie. 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 Grazie.